Un nuovo parassita minaccia l'apicultura, si chiama Etina tumida, il coleottero parassita dell'alveare ed è in grado di determinare notevoli danni che vanno dal consumo delle scorte di polline e miele fino ad arrivare alla distruzione dell'intera covata. A darne notizia, il Codacons Vallo di Diano, con un comunicato, a firma del responsabile settore agricoltura, Salvatore Gasparro. Lo scorso 7 novembre il primo caso di Etina tumida sul territorio nazionale è stato confermato dal Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale delle Venezie. Etina tumida è in grado di volare per diversi chilometri, infessando aree di grandi proporzioni e quindi molto grandi sono i rischi connessi alla diffusione di questo coleottero sul territorio nazionale. Un allarme che riguarda anche la provincia salernitana. I dipartimenti di prevenzione veterinaria sono in allerta e sono state disposte severe misure di controllo e prevenzione. In primis la ricerca e il controllo a destino degli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo durante il periodo primaverile-estivo in Regione Calabria. Poi il sequestro di mieli, favi e qualsiasi altro materiale veicolo di contagio in caso di rilevamento di adulti o stadi larvali negli alveari. Infine la distruzione degli apiari infestati e il contestuale trattamento del terreno circostante con sostanze antilarvali dopo aratura a 20 cm. È obbligatorio per gli apicoltori dare tempestiva segnalazione ai dipartimenti di prevenzione veterinaria delle asle di zona gli eventuali sospetti direttamente o tramite l'associazione per consentire i successivi accertamenti. L'invito mosso agli apicoltori del Vallo di Diano da parte del dottor Salvatore Gasparro responsabile del settore agricoltura del Codacons è quello di monitorare costantemente e con la massima attenzione i propri apiari perché solo una individuazione rapida della presenza del parassita nelle apiari e la sua eliminazione con le modalità dettate dal Ministero della Salute contribuisce a velocizzare il piano di eradicazione ed è un atto di responsabilità nei confronti del patrimonio apistico. Inoltre qualora si desideri acquistare degli sciami, delle api regine o altro materiale soggetto a contaminazione sottolinea Gasparro, è fondamentale controllarne la provenienza e la relativa certificazione.